Ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao a tutti, ciao, ciao ragazzi, ciao a tutti, salve a tutti. Per me il conservatorio è un posto magico. Sto vivendo una bellissima esperienza. È un'opportunità di crescita. Perché oltre alla musica c'è anche tanta arte, come ad esempio la Sala dei Marmi, il Salone Pedrotti. In questi momenti si sente davvero moltissimo la nostalgia di tutte le esperienze vissute in conservatorio. Una delle esperienze più belle che voi potete fare all'interno del conservatorio è sicuramente quello di suonare con l'orchestra. Che ti permette di relazionarti con quello che sarà il mondo del lavoro. Suonare in orchestra che per noi è molto importante. Musica insieme, musica alla camera. Nei vari anni mi sono esibito in vari concerti e in varie occasioni. Diventerà la vostra seconda casa e vorrete sempre essere lì. Creano forti amicizie tra lo studente e il professore. Non solo con le lezioni, ma anche tramite produzione orchestrali e master class con precedenti maestri. Se amate la musica, se vi piace la musica, intraprendete questo viaggio meraviglioso, perché ne vale la pena. Non riesco proprio a immaginare un futuro senza il pianoforte che è appunto il mio strumento. Per cui credetemi davvero. Queste sono le soddisfazioni più grandi appunto che ho avuto fino ad ora. E vi invito ad iscrivervi. Ciao! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti